Attenzione, attenzione! Oggi dobbiamo festeggiare i primi meravigliosi 50 anni di mia moglie! No, datemi la moglie, vieni qua, vieni! L'asteroide interstellare che dopo aver vagato per milioni di anni per la Via Lattea ha incontrato casualmente il Sistema Solare, un terzo della velocità della luce. Ma quanto è grande sto bosone? L'ultima volta si sono estinti dinosauri. Dance me to your beauty Quindi sì! Alla sincerità! Alla sincerità! Alla sincerità! Amo mio marito, però il primo amore è un'altra cosa. Io sapevo tutto di te quando ci siamo messi insieme. Non volevo sposare un toro, volevo un amico. Tu lo sai? Non è bello, oggi. Non si ama una sola volta, gli altri si vuole bene. E perché la nostra storia è così a toppe? Perché ci sentiamo in intensità. Questo pietro è la testa qua. Sì. Ci fa bello. Pensiamo di avere un tempo infinito. A un certo punto di colpo ci accorgiamo che non ce n'è più tempo. Se casca sto sasso risolvere il problema. No? No? Certo. Soprattutto se non chiami sasso. No? No? Grazie a tutti.